Eccomi qua con un nuovo video, questo qua sarà il video sui miei regali di Natale Ne ho ricevuti per me tantissimi, magari per alcuni che ne ho ricevuti centinaia pochi Comunque per me sono stati bellissimi, li ho apprezzati tutti dal primo all'ultimo E innanzitutto prima vi faccio vedere cosa mi ha regalato per l'identità delle patente Ovvero questa, tutta qua, mi metto una foto qua, mi piace un sacco, è tutta unita e tiene un caldo assurdo Comunque passiamo ai regali di Natale, passiamo a quello di Santa Lucia Che mi è stato fatto dalla mia mamma e dal mio papà Loro lo sanno che hanno queste collane qua e quindi hanno pensato bene dato che non ne avevo neanche una di prendermela Questa collana qua l'ho indistrata sia in un video e è piaciuta a una ragazza Quindi, grazie E l'ho indistrata anche a capodanno su un vestito che ho pagato tipo 9 euro da Terra Nova Era un vestito che di solito abbina con i leggings e ho pensato di utilizzarlo invece come proprio vestito Con sotto dei collanti neri e abbinarci questa collana qua Dato che comunque il vestito era molto semplice e lo facevo diventare importante con questa collana qua E mi è piaciuto un sacco La amo, mi piace tantissimo E per capodanno e ultimo dell'anno Per l'ultimo dell'anno in realtà L'ho utilizzata Colgo l'occasione per augurarvi innanzitutto Buon 2015 e ditemi cosa avete fatto voi per l'ultimo dell'anno E come sta diciamo partendo il 2015 Sono davvero curiosa, a me piace tantissimo Comunque l'ho comprata in questo negozio qui Che si chiama L'Armadio di Ginevra Poi il regalo del mio nonnino oltre ai soldi è stato questo qua Luci di Natale Che appunto questo è alberello Babbo Natale qua Che diciamo si illumina tutto Mi piace un sacco Poi un'amica di mia mamma mi ha regalato dei punti 200 euro di buone sconto Da il negozio Lilla Pua e Lilla Mua Più questo elastico per capelli di equilibra E ringrazio ovviamente Sapete Poi la mia compagnia di classe Mi ha regalato la Lucrezia Mi ha regalato questo braccialetto qua Che è uguale anche lei Preso dalla coin La marca del bracciale è O-I-M-O-I-M Non mi ricordo No, I-M-O-M-I Non mi ricordo Comunque Ad ogni modo mi ha regalato questo braccialettino qua Che si chiude con i bottoncini Col cinturino rosa chiaro E il simbolo dell'infinito Argentato Mi piace tantissimo Davvero Se l'è preso uguale Perché avevamo già preso un braccialetto uguale E' soltanto che lei l'ha rotto Io l'ho perso E quindi speriamo che questo qua Tipo duri E mi piace tantissimo davvero E' stravitoso E in più mi ha regalato questa birra qua A forma di cupcake Come potete vedere E niente Mi piace tantissimo Adoro le cose così paciucose Così carine Mi piace davvero tanto Poi con lo sconto del 20% Mi sono auto regalata Quest'acqua micellare Che ho pagato intorno ai 6€ Ho finito il formato mini Da 50ml Che costa 4€ Questo qua è più conveniente 200ml 8€ Costa 8,50€ Io l'ho pagata 6 Col 20% E diciamo Me ne sono un po' pentita Soltanto perché ho guardato l'inci Ed fa schifo davvero Però si trucca davvero divinamente Poi Stando andando veloce Perché Sennò poi Mi si occupa tutta la memoria Mia zia E i miei zii Mi hanno regalato Questo cofanetto qua Che utilizzerò per La vita in Spagna Che ho chiesto ai miei Infatti non dovevano regalarmi Poi quello che vi faccio vedere E niente Vi mostro un po' cosa c'è dentro Questo qua è della Omnia Laboratories E c'è dentro Questo physio shampoo Da 100ml All'olio di argan Questa marca qua È una marca Eco Bio Ed è anche certificata Quindi CEA E non è testata sugli animali Questo qua è appunto Per capelli lisci Che non contiene Siliconi Slash peg Sale aggiunto E parabeni Ah che prurito E niente Lo proverò Però sapete Utilizzando prodotti con siliconi Secondo me Questo qua Che è senza niente Anche se è strepitoso Mi farà venire i capelli paglia Però Sono davvero curiosa Perché amo questa marca Mi piace tantissimo Infatti ringrazio tantissimo Mia zia Che so che guarda sempre i miei video Quindi grazie 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 E Poi qua c'era dentro Questa maschera Per capelli Sempre eco biologico Sempre per capelli lisci Sempre all'olio di argan Sempre certificato ovviamente ICEA E sempre Non è sempre Non è testata sugli animali Quante volte detto Sempre Comunque questa qua Contiene 0% di parabeni Oliminerali Peg Siliconi E coloranti sintetici Anche questa è curiosissima E in più c'era tipo Questo asciugamano Per Asciugacapelli weekend Pratico da viaggio Che però per me Non va bene assolutamente Perché È davvero Minuscolo Quindi probabilmente Lo utilizzerò Per Per magari La faccia Per il viso Non so Comunque La idea è molto carina E Erano tutti e tre Prodotti Chiusi in questa pochettina Che mi porterò In Spagna Poi Il primo Strapitoso Mi sta cadendo il braceletto Mi sta cadendo tutto Mi ha regalato Mi ha regalato I soldi Mia nonna E anche ovviamente I mesi La mamma E mio papà Per vari motivi Hanno decise Di regalarmi un profumo Che io Ovviamente Dico che non l'avevo chiesta Perché avevo chiesto Solo la gita Però Grazie davvero Di cuore E mi hanno regalato Questo profumo qua Di Lancome La vie belle È un profumo Che io amo 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 Da una vita E quindi Grazie Perché è strepitoso È questo qua Da 30 ml E quindi Da sto tipo Profumi che desidero Di più al mondo Ce li ho Perché erano Alien Che mi è stato regalato Da amici Per il compleanno E questo profumo qua La vie è bello Alien Volendo Ho scoperto Che posso ricaricarlo Quindi grazie Alla ragazza Che mi aveva Aiutato A capire Se era una confezione Ricaricabile Oppure no Comunque C'è Packaging Tenuto benissimo Però Ha un prezzo Davvero elevato Infatti Pazzi Perché è tipo Più il packaging Che 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 profumo Però vabbè È tenuto davvero Benissimo Curato di minimi dettagli Ho notato che hanno scritto Anche la vie belle Qua in alto Quindi Per l'amor del cielo Però davvero Il prezzo è Esagerato Comunque Sono contenta Perché È strepitoso Davvero Poi In più La mia migliore amica Adesso che mi viene in mente Mi ha regalato Oltre Una cosa che Ho da farvi vedere Scusatemi Se vi giro le spalle Due cose Questa Che è la maglia Della D'Hard Rock Cafe Di Barcellona Perché lei a Natale È andata a Barcellona Ed è una Taglia S Small Da 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 uomo E La dovo La dovo La dovo Perché sapete Che io faccio Cioè Non lo sapete Però io faccio Tutte le collezioni Delle maglie Ad Rock Cafe Così Ora Davvero troppe Cioè Ne ho davvero tante Infatti Adesso voglio prenderle Me le hanno regalate Tutte così Tutte bianche Però con vari nomi Ce le ho Due di Londra Una di Atene Una di Barcellona E non so Se ce ne ho qualcun'altra Comunque E altra cosa In più Che mi ha regalato E che non Cioè Anche solo la maglia Anche Una stupinata Andava benissimo Ma Lei è pazza Mi ha regalato Un prodottino Di Victoria Secret Che sa che A me piace Tantissimo Victoria Secret E non avendo Qua in Italia L'occasione Di comprarla A meno che non Vai in aeroporto O di Milano O di Roma Ha pensato Lei di regalarmi Qualcosina E Abbiamo Ho scelto Diciamo Perché mi ha fatto Scegliere Altra paia di mutande Che una La regalava Un'altra Sua amica A me Ha fatto scegliere E io ho scelto Questa mutanda Qua Con il pizzo rosa E il Tessuto nero È morbidissima Tipo in microfibra Non lo so Qua Ha il fiocchettino Rosa E Il dietro Non è tanga Una mutanda normale Ha questa retina Qua Comunque ha Questi 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 nastrini Qua rosa E sa È sempre Il fiocchettino Rosa È firmata Victoria Secret Bla 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 È una M Se vi interessasse Ed è la Very Sexy Cheeky Culot Penso sia questa La marca Non ne ho idea Comunque Amo davvero Questo regalo Cioè è bellissimo E Il Diciamo La scatola Di Victoria Sicretta La metterò Probabilmente Al posto Del babbo Natalino Vicino Alla scatola Di Tiffany Niente Penso di avervi fatto Vedere tutto Comunque Ringrazio a tutti 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 Davvero Per i regali Mi sono piaciuti Tantissimo Fatemi sapere Cosa avete fatto A capodanno Iscriviti Metti mi piace E commenta Suggeriscimi Di video da fare E niente Vi auguro Un buonissimo 2015 E ci vediamo Nel prossimo video Ciao a tutte Pasticce Ciao a tutti